Fermi i nemici in modo da poter utilizzare il PTA Bad Light Beer abbiamo fatto solo il game che abbiamo fatto prima Questo qui è il secondo game Nice Chester Nel titolo ragazzi come sta andando la promo Però adesso abbiamo una Lulz Dai Rialziamoci Se dobbiamo perderla almeno non perdiamola direttamente contro la Lulz Non facciamo questa figura Come un po' chi se ti distrugge E cream l'hanno dovuto per forza pulare Easy Ok Grazie per l'energia Admini Nooo Nooo Ok Oddio Oddio quella Q di Brand E I cream I cream è scomparso Ok no Tornato sulla mappa Vabbè Free trade per lei Stupido io Ciao gaolo Nooo Nooo Come un alberante Well Minuto Nooo 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 Sì 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 Vabbè Toplin è stata devastata Sì Non ho fatto esplodere la bomba Non ho fatto esplodere la bomba Morto Easy Non ho fatto esplodere la bomba con la ultima Non ho resettato il salto Fuck this Non so come ho fatto a non resettarlo Probabilmente non ho messo la carica del salto Perché sono saltato blind Va bene Grazie Phyllis Ciao bellissimo Dominazione Ultrapushiamo la prossima 40 secondi Drake Torna bot Fanculo Fanculo Questi mi hanno persi Buono Buono Andiamo Buono 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 La sua squadra Spazio devasto Penso di non aver ancora preso la placca Grazie per il follow Prende Ok Ok Riusciamo a prendere un'altra blocca Buono 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 Dai 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 Filisteo Abbastanza attacca speed Se sei abbastanza attacca speed Se sei abbastanza bravo dovrebbe addirittura partirti un'auto attacco mentre la piazzi in volo o comunque tiri l'auto attacco mentre stai atterrando tipo roba del genere Ma questo è quello che mi ricordo della notte dei tempi Buono Come on Ho dovuto tirare un altro attacco perché non sono sicuro di critare senza il crit non la uccidevo a lei Ah niente, ho devastato quel tipo Abbiamo focussato la tipa che diventa immortale Va bene Questo era un point Sono totalmente ignorato Non è mai bello quando ti lasciano venire addosso un e-cream a caso Un portale di danni quel tipo Sto cazzo di oggetto è fucking broken, dio buono Adesso puoi lasciare formare meglio Non è bello RIP Ok Mi ho impiantato sul muro, eh, Karim Non so che cazzo sia successo, tipo Mi ho attaccato al muro Figa Andiamo Andiamo per Drake E Karim città del crimine Che mura la gente viva Vabbè mid Vaffanculo, figa Zoe che arriva con la sua merda di meteora caricata da non si sa dove Quanto poca dio ho per non farmare sti cazzo di minion, santo dio Che mi rimangono tutti a uno Basta E sta pink in mezzo al cazzo Va bene E' trasmutato come in full metal alchemy, sta arrivato Ekarim figa, mi ha toccato e mi sono trasformato in un chiodo Sei morti Questo qui è tiltato Che poi non si sa perché abbia tiltato, visto che da 1-5 mi ha devastato, però va bene E' un'altra E' un'altra E' un'altra Ok Ben recall, PD e si comincia a fare l'infinity Comincia a fare l'infinity dal crit e aspettiamo 10 secondi Stacco sta tirando dritto il game Sta tirando dritto il game questo, ecco Sì, sì, dal prossimo game comincia a bannare Ezreal perché ha veramente rotto il cazzo La gente che lo picca, figa Incompetenti bastardi, figa Non so perché, volevo andare dall'altra parte ma non importa Questa cade Ok, la top Non so quanto ne valga la pena Buono Bello Spettiamo il tp Ok, l'ha già blocca PRL Bene Dai 1-1 Dai 1-1 1-2 2-5 6-6